jungle dpm inglese jungle dpm nuovo di magazzino composizione 66 per cento cotone 44 per cento fibra sintetica è fornito di un soggolo con cursore col soggolo elastico inelastico robusto ha dei passanti tutto intorno con possibilità di inserire materiale in quanto aperti questi servono per mimetizzarlo con foglie arbusti e quant'altro ai suoi lati troviamo due aeratori muniti di retina anti insetto metallici cucito molto bene tessuto molto leggero e una leggerezza di una consistenza eccezionale in quanto facilmente richiudibile riponibile in ogni parte all'interno troviamo il label originale non è foderato in quanto è molto leggero questo particolare tessuto è resistente ai fluidi sia corporei che extracorporei vediamo subito una dimostrazione cappello rimane pressoché asciutto resistentissimo materiale molto molto solido una forma particolarmente larga sottometrazione Grazie a tutti.